Allora, ieri avevamo cominciato a fare una grossa introduzione su che cos'è l'associazione bambini in cucina e che cos'è l'educazione alimentare. Giusto per farvi un piccolo ripasso, abbiamo detto che l'educazione alimentare oggi non è educazione nutrizionale, l'educazione nutrizionale è una piccola porzione dell'educazione alimentare. L'educazione alimentare è cucina e attività pratica e questo per diverse ragioni. La più banale se vogliamo è perché non si può pensare che un adulto sia un adulto sano se non è capace di pulire la verdura. Quindi la competenza in cucina è indispensabile perché i bambini di oggi siano adulti sani domani. Non saper cucinare vuol dire mangiare male o dover sempre mangiare in giro, mangiare fuori. Il che vuol dire sì mangiare male vuol dire anche spendere un sacco di soldi, quindi nessuno se lo può più permettere. Quindi la competenza in cucina oggi è una competenza di base che dobbiamo dare ai bambini e ai ragazzi, diciamo quasi come saper leggere e scrivere, è una competenza di sopravvivenza. L'educazione alimentare è educazione culturale, conoscenza del territorio, è educazione ambientale. Abbiamo visto ieri la doppia piramide alimentare che ci dimostra come una buona alimentazione, se è sana per noi è sana per l'ambiente. Diversamente una cattiva alimentazione ha un impatto ambientale enorme. Immaginate banalmente qualsiasi confezione di cibo pronto di scarsa qualità, tutte le confezioni, tutto quello che comporta per l'ambiente produrre cibo di scarsa qualità. Quindi la base dell'alimentazione ai bambini è frutta e verdura. Questo non serve a nulla a dirlo ai bambini, serve avvicinare i bambini al cibo attraverso il contatto con la natura. Quindi in cucina tanta frutta e verdura, tanti aromi, tante spezie, tanti elementi che parlano della natura e poi fuori dalla cucina tante attività all'aria aperta legate al cibo. Passeggiate per raccogliere il cibo selvatico, portarli a vedere un peschereccio e capire che cos'è la pesca, piuttosto che arrampicarsi sugli alberi a prendere i fichi e andare a raccogliere le castagne e così via. Perché? Perché non è affatto ovvio per un bambino oggi il concetto che il cibo viene dalla natura, viene dalla terra, viene dal mondo naturale. Quindi questa è un pochino l'introduzione che abbiamo fatto ieri. Per proprio cominciare e ribadire un pochino questi concetti vorrei farvi vedere un filmato. Vi anticipo che la qualità dell'immagine non è bellissima. Questo qui è un filmato che è stato fatto, è un cortometraggio che è stato fatto sull'attività dell'Associazione Bambini in Cucina qualche anno fa e che ha ricevuto la menzione speciale del premio cinema promosso da Accademia Barilla, perché Accademia Barilla fa ogni anno un premio cinema. I film, i cortometraggi premiati ovviamente raccontano le esperienze di bravissimi chef, eccetera, eccetera. Però qui sono stati premiati i contenuti in modo che voi possiate vedere, prima di tutto, delle parti di un laboratorio con bambini molto più piccoli di quelli che avete visto ieri. E quindi al limite poi facciamo una riflessione su questo e vedete un pochino sul campo il nostro lavoro. Il filmato si chiama La mano competente. Vedete tutti bene? Cucinare con i bambini è un'attività molto bella e di grande valore. Non sono solo per la loro educazione alimentare, ma soprattutto per il piacere di stare insieme, di condividere dei momenti belli in casa, insieme. Facciamo dei laboratori di cucina, come quello che sta per svolgersi adesso, dedicati ai bambini a partire dai tre anni, nei quali facciamo il cibo vero, quello che si fa in casa tutti i giorni, quello che ha la dignità di stare sulla tavola dell'adulto. Quindi non cibi giocattolo con coloranti, con formine di pupazzetti e queste cose qui, ma il cibo vero che ai bambini dà grande soddisfazione. Il nostro obiettivo non è di essere noi i maestri di cucina dei bambini, vogliamo che tutti siano i genitori da diventare i maestri di cucinare i loro bambini, quindi cerchiamo di dare ai genitori le quattro istruzioni di base per riuscire a cucinare in sicurezza assieme a loro. La cosa che mi sorprende sempre in questi laboratori è la capacità di concentrazione del bambino. Le patate non si mangiano le patate mai. Oh, Vip! Che fai! Ma... Che fai! Io le mangio il secco. Vieni, vieni, guarda te. Ma che fai? Un piccolo secco. Un piccolo secco, lavora qua. Vieni! Che ha fatti la vettura? Va lavorare troppo forte adesso. Grazie! Continuando in Cornell, va al Soleyni e il Belgio I bambini vogliono sentirsi competenti, vogliono usare degli utensili veri, vogliono provare a fare le cose da grandi. Questi laboratori non servono solo ai bambini per fare cose da grandi, servono ai genitori per scoprire che i bambini sono competenti in cucina. I bambini che passano tanto tempo in cucina conoscono il cibo e questo permette loro di scoprire tutta una gamma di sapori, di consistenze che sono e saranno quando saranno più grandi fondamentali perché possano alimentarsi in modo corretto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Vi facciamo un applauso! Bravissimi, siete stati tutti bravissimi! Anche io! Anche io! Non perché pensiamo che questo sia migliore degli altri, ma perché questo è quello che noi sappiamo fare. Questa è la competenza che noi riusciamo a dare ai nostri bambini. E' importante anche usare i prodotti del nostro ambiente, dei nostri italiani, insomma, non andare a prendere alimenti dall'altra parte del mondo, però allo stesso tempo comunque portare delle cose, come la sto dicendo, ma nonostante la tempistica si allunga, no? Ci sono altri laboratori con i quali mi sono cimentata e è veramente difficile amare questo tipo di concentrazione. E poi... Ok. Allora, vabbè, come avevo detto, la qualità è un po' così. Questo era un laboratorio di gnocchi, come avete visto, fatto in un asilo nido di Milano che si chiama Innaviglia Vapore, che è un asilo nato da persone che avevano fatto una formazione agli asili in Reggio Emilia. Quindi uno spazio davvero bello, adeguato, abbiamo addirittura i tavoli con le gambe regolabili, li regoliamo ogni volta all'altezza giusta, perché il piano di lavoro del bambino sia sempre esattamente come lo vorremmo noi quando cuciniamo. avrete notato delle cose carine, per esempio come i bambini creano intorno al tavolo. Noi ieri avevamo un tavolone lungo, mentre lì ci sono i tavoli piccoli, per cui si crea il piccolo gruppo che chiacchiera intanto, come in una normalissima cucina, no? Si crea questa confidenza proprio. Che dire, poi il resto era simile a quello che avete già visto, no? Quando si fa il laboratorio di gnocchi, tra l'altro noi portiamo le patate già cotte calde, non bollenti ovviamente, ma ancora calde. E questo è un bellissimo laboratorio a fare anche con i bambini molto piccoli, dai due anni, perché la sensazione di questa cosa calda e questo impasto che resta tiepido è davvero una sensazione tattile, molto importante. A questo proposito, per esempio, nel campo dell'educazione alimentare non si parla più dei cinque sensi, ma si parla di un numero maggiore di sensi, tra questi proprio il senso della temperatura. E quindi è un modo per i bambini di mettere a fuoco che, sì è vero, esiste anche la temperatura diversa, no? Quando cucino. Non lo so, avete considerazioni da fare su quello che avete visto? Scusate, non mi ricordo dove ho messo il microfono, è qua. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Vi devo passare il microfono. No? Va bene. vi è piaciuto? E poi si deve dire di sì per forza, no? In questi casi. Va bene, quindi sostanzialmente l'attività di bambini in cucina l'avete visto. Sembra quasi abbastanza ovvio che l'educazione alimentare si debba fare così, no? Di fatto ancora oggi è difficile perché ci si scontra con idee ancora molto indietro rispetto a questo, sia su quello, su come mangiano i bambini, su quello che deve essere l'educazione alimentare, sulle competenze dei bambini, su quello che possono o non possono fare, sull'idea di pericolosità, su proprio infiniti aspetti. Sul fatto stesso, e questo è molto vero in Italia, che l'educazione ha ancora molto spesso un'impronta moralistica. Per cui un'attività educativa dove i bambini si divertono. E non sto parlando di divertimento scateniamoci e facciamo casino, no? Sto parlando di un divertimento dove il bambino è totalmente assorto e concentrato in quello che sta facendo. Non so, pensate voi da bambini, no? Costruivate o quando facevate un disegno che vi piaceva, no? Era quella sensazione di essere dentro quella cosa. Ecco, quello è un divertimento un po' e ci si diverte davvero a far così. Sentirsi protagonista è completamente assorto in quello che si fa, infatti. Sempre così, anche per rendervi questo scambio un po' leggero, ho portato delle foto scaricate da internet, eccetera. Premetto, sono foto quasi tutte di cose che proprio non mi piacciono. Così le vediamo un attimino insieme, sia su Alimenti sia sui bambini e le commentiamo un secondo insieme, proprio per... dimmi. Non ho capito? È quello foto e fotacce, si chiama, il file. Cominciamo con bambini, dai. Puoi partire dalla prima, le vediamo tutte. Aspetta. Ah, ok. Allora, guardate, adesso veramente vi do il microfono e mi dite voi cosa c'è che non va in questa foto. Faccio... come lo accendo? Aspetta che non mi ricordo più. scusami. No, ho schiacciato, ma... ha bisogno schiacciare più decisi. Chi si candida? Dai, 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 dai. Allora, la prima cosa che mi viene in mente guardando la foto è la posizione della bambina, sicuramente non molto idonea e magari anche un po' pericolosa. E poi anche il fatto che la mamma non la lascia fare, magari lasciare l'uovo in mano, pazienza, potrebbe tranquillamente rompere o magari gli spiego, gli faccio vedere in un'altra ciotola come si fa. Io farei così, gli faccio vedere a mio figlio come si fa, gli do l'uovo in mano e dico, magari provaci tu, magari un bambino di 4-5 anni, non alla piccola di due, non lo farei avendo due bambini, farei così. Magari che altro? Ma... Qualcun altro vede qualcosa che... oppure, no, dite pure se vedendo questa foto vi viene da dire, ah, che bello, no? Perché... Non lo so, mi dà di un ambiente disordinato comunque, anche il piano di lavoro. Non lo so, mi dà questa sensazione di confusione. Allora, io semplicemente, quando faccio attività di cucina con i bambini, mi immedesimo e penso sempre, io cucinerei così? Allora, voi cucinereste seduti sul tavolo, sullo spigolo di un tavolo? Perché cavolo deve farlo un bambino, no? Quindi, l'idea è di mettere un bambino in condizione di fare le cose come le farebbe un grande? Naturalmente, su un piano più basso, su tutto questo. Per cui, questa bambina col vestitino carino, perché probabilmente c'è la ripresa fotografica. E poi, davvero, come si fa a rompere un uovo con quattro mani? Cioè, l'uovo è troppo piccolo perché ci stiano quattro mani. Quindi, ha un sapore molto finto. Anche perché, insomma, voi quando rompete un uovo sicuramente non mettereste i gusci sul tagliere, no? È un'idiozia totale. Ok. Ecco, questo è il tipico laboratorio di cucina che mi dà sui nervi, no? Subito. Perché? Il microfono l'avete voi, no? Vai, ditemi perché. Beh, Giudicaria della Foto sembra che stia cucinando un adulto e che tutti i bambini stanno guardando. Esatto. E quindi non stanno effettivamente imparando un gran canno. Esatto. È uno show cooking, come dicono. Altre cose che... Ma dite anche quello che vi piace, eh? Lo so che adesso vi sentite sotto esame. Allora, secondo me, primo, i bambini non hanno spazio, no? Cioè, questo piccolino qui, veramente, con naso davanti allo spigolo del tagliere, perché deve stare lì? Quindi, il piano di lavoro è stretto e disordinato, io personalmente detesto i capelli da cuoco, proprio li detesto, li trovo una mascherata inutile. Non stiamo giocando a fare i cuochi, quello sarebbe un gioco un po' teatrale, stiamo imparando a cucinare. Nessuno di noi si mette il cappello da cuoco quando cucina in casa, è davvero una mascherata stupida. Quando facciamo il laboratorio di cucina, tante volte, magari per le feste di compleanno, il genitore che ha organizzato la festa porta i capelli da cuoco per tutti, no? E ovviamente, non facciamo finta di niente, dopodiché io gongolo tutte le volte che i bambini dicono, no, ma io non me lo metto, e se lo levano, no? Ecco, andiamo avanti. Ecco, voi guardate quanto spazio ha a disposizione ogni bambino, no? Cosa succede? Se il bambino non ha spazio, non si rilassa, per cui si mettono a fare altro, giustamente, ognuno nel suo stile, chi gioca, chi fa lo stupidino, come si suol dire, e così via. Chi, magari ha voglia di andarsene, cioè, quegli ultimi tre in fondo, sono presi in giro, perché sono stati invitati a fare un'attività di cucina, e non mi sembra proprio che sia quello. Andiamo avanti? Sì, ok. Dai, qua scatenatevi con i commenti. Lo potremmo cucinare. Devi dirlo al microfono. Lo potremmo cucinare, magari, il povero bambino, messo lì. Niente. Non ho parole, direi. Io direi non ho parole. Devi dirlo nel microfono, se no non ti sentono. Il bambino non ha l'età appropriata per dover fare qualcosa in cucina, per cui è veramente messo lì per fare la foto simpatica, ma niente di più. È un bambino usato. Sì. È un bambino usato, questo. L'unica cosa che mi auguro è che rovesci il latte a questo punto. Almeno. Almeno poi dovranno almeno pulire. Questa foto gira in internet tantissimo. E tantissimi posti che organizzano attività di cucina per bambini la usano per la propria promozione. Cosa significa? Che per un mare di gente questa è considerata una foto davvero carina di un bambino in cucina. Ecco. Allora, contro questo genere di immagini bisogna combattere. Perché poi, guardate la scena, hanno messo la frutta, il latte, le cose sane, no? Per dire che questa è una bella... Quel bambino è in trappola. Cioè, è stato incastrato e intrappolato dentro. Come ho visto questo concetto del bloccare il bambino? In delle feste di compleanno, che non mi ricordo se organizzava a McDonald's, piuttosto che in altri questi fast food, dove mettono i tavoli a C, praticamente, e i bambini devono passare sotto il tavolo per andare a sedersi. E in quel modo sono completamente intrappolati dentro, no? Ovviamente, voi avete visto ieri i bambini che cucinavano, la farina c'era. Non abbiamo visto disastri, non abbiamo visto farina rovesciata. Nessun bambino è stato richiamato. Erano tutti perfettamente in grado di gestire la farina in modo dignitoso, come farebbe un adulto, se non meglio, addirittura, no? E poi, perché mischiare la farina con le mele? E possiamo andare avanti a trovare difetti in questa cosa? Di nuovo questa mascherata del cappello da cuoco, tra l'altro su un bambino che neanche ha l'età per capire che quello è un cappello da cuoco. Quindi veramente un bambino usato. Andiamo avanti. Ecco. Ditemi. Questa è la situazione che abbiamo prospettato prima, il fatto di non dare la giusta importanza a quello che stanno facendo i bambini. Perché comunque interagiscono tutti all'interno di una stessa ciotola, senza realizzare veramente quello che possono fare da soli, no? Ecco, io mi chiedo come si fa a mescolare qualsiasi cosa ci sia in quella ciotola mettendo 5 cucchiai di legno dentro una ciotola, no? Ecco, vedete i cappelli da cuoco, no? Che vengono comprati neanche della misura giusta. Ecco. L'idea di dare la maglietta invece di un grembiule è un'idea carina, no? Perché è comunque una cosa che può essere riutilizzata. Vuoi andare avanti? Grazie. Ecco qua, vabbè adesso non ve la faccio tanto lunga, no? Stiamo, questo qui è il tipico laboratorio di cucina che si vede in giro, con 5.000 mani sulla stessa cosa. Non c'è modo di pensare a quello che uno sta facendo, né di farsi un progetto mentale di quello che uno vuole fare. Se avete notato, ieri, il tempo che ci è voluto ai bambini per fare questo impasto, è diversissimo da un bambino. Anche la modalità, chi ha fatto tutto assieme, chi ha fatto le palline e le ha messe da parte, chi... Ognuno... Il bello di un laboratorio di cucina è che siamo tutti arrivati a un risultato simile, ma ognuno per una strada diversa, no? Sono come tante strade, tanti percorsi che portano a un risultato comune. E la cucina è quella, no? Ognuno cucina in modo diverso, userà ingredienti lievemente diversi, uno stile lievemente diverso, è proprio un'attività artigianale a tutti gli effetti, no? E qui c'è sempre l'idea che le cose che fa il bambino tanto sono un po' così. Vai, vai. Una pubblicità. Quindi qua l'idea che divertirsi vuol dire fare gli scemi, no? Secondo il creatore di questa cosa, questa cosa è davvero divertente. Mettersi uno scolapasta in testa è davvero l'idea del bambino in cucina. Quando vi dicevo prima che arrivare a fare educazione alimentare, a proporre un'attività intelligente e divertente, no? È difficile perché partiamo dall'idea che la gente trova questo divertente. Quindi sono tantissimi passaggi proprio mentali, culturali, eccetera, eccetera, che bisogna far capire per arrivare a far capire che i bambini si divertono in un'attività come quella di ieri e non a fare gli imbecilli, o almeno magari si divertono, cioè mi diverto anch'io magari a fare gli imbecilli, ma poi cosa mi resta? No. Non importa. Allora, queste sono delle uova al tegamino, tutte le immagini trovate qua e là cercando come cibo per bambini, kids food e così via. Sono dei peperoni tagliati a fette, eccetera, usati come cornice per fare un uovo al tegamino. Personalmente io questa cosa la trovo deliziosa perché è sì visual food, cioè è un cibo molto che gratifica l'occhio soprattutto, no? Però di fatto c'è un uso interessante della verdura, per esempio. Tendiamo a non pensare che il peperone si può usare così, che tagliato in quel senso può essere una cornice, un confine di qualcosa. A volte nei laboratori di cucina portiamo le lenti di ingrandimento come strumento. Ci sono quelle che si chiamano lenti di Fresnel, non so se le conoscete, sono dei fogli di plastica che sono delle lenti, per cui si lavano, hanno l'aspetto di una tovaglietta un pochino più piccola. Quello che usiamo si può anche guardare con una lente di ingrandimento, si può tagliare in una prospettiva diversa, eccetera, eccetera. Quindi per il discorso che abbiamo fatto anche ieri, che i bambini sono piccoli scienziati, a loro piace osservare. Vai pure avanti. Sempre nel campo del visual food, voler fare una cosa graziosa, carina, questa parla da sé. Perché è carino, è interessante? È semplicemente frutta, che nonostante sia usata in chiave tutta visiva, mantiene la sua identità di frutta, è perfettamente riconoscibile. È un uso creativo, nel senso bello della parola creativa, cioè è un uso alternativo, è una soluzione diversa di un materiale che poi verrà trattato con rispetto, cioè verrà consumato, è invitante un piatto così, non verrà preso per fare un giochino e poi buttato via. Ok. Che dire? Allora, è considerato un'ideona, questa cosa va, si vende come il pane in internet, sono dei Würstel, la proposta è di conficcare degli spaghetti crudi e cuocere tutto assieme, e quello è considerato una cosa per l'amor del cielo, volendo trovare spiritoso, siamo tutti d'accordo. questo se facciamo, non so, uno studio su cose schifose che possiamo fare con il cibo, sicuramente meriterebbe la sua. I Würstel sono considerati una delle cose che davvero vale la pena dare ai bambini, molte persone li comprano perché sono veloci, i bambini mangiano, hanno sapori che sono graditi a molti bambini. Io non li ho mai comprati, mai dati a mio figlio, semplicemente perché, non solo perché secondo me non è un alimento adeguato, eccetera, ma perché non si capisce che cos'è, di cosa è fatto, da cosa viene, non permette di capire quello che uno ha davvero nel piatto. Ecco. sono contenta che vedo qualche faccia schifata. Altre cose che vengono proposte come ideone di cose da dare ai bambini. devi usare il microfono, scusami. grazie a Dio, i bambini, questa roba, per lì vengono attratti, però poi magari l'assaggiano e poi lasciano stare. L'altro giorno, una festa, questo pugu azzurro, era contentissimo quando l'ha preso, come l'ha messo in bocca, è rimasto così, mamma io non lo voglio e me l'ha ridato perché era blu, pasta di zucchero terribile e giustamente la mamma pensava questa torta enorme, tutta verde, con Mario Kart sopra i punghi, tutti colorati, rossa, azzurra, verde, e i bambini sono rimasti così ed è rimasta, poi hanno scartato tutta la roba colorata e hanno mangiato per fortuna panni spagna e crema che stava sotto. Però la torta era benissima. però se posso dirti tu parli di bambini che sono stati abituati a mangiare decentemente, che conoscono il cibo decente e che in alcune occasioni vedono cibo altro. C'è un'altra realtà, c'è la realtà di bambini abituati a mangiare sempre in modo bizzarro, abituati a questi giochini, a quest'idea del cibo adeguato dei bambini a una merenda, eccetera. Ci sono, guarda, ci sono. Sì, sì, gli effetti magari che sono i bambini ai quali non puoi dare la mela da mangiare a morsi perché la rifiutano. Quindi è un fenomeno di assuefazione quasi. Chi è abituato a questo? Conoscono solo questo? Praticamente. Questo, a mio avviso, è davvero un'offesa perché non è cibo. Ammesso che sia commestibile, non è cibo. È una cosa forse commestibile, ma il cibo è davvero un'altra cosa. Quando noi offriamo ai bambini cibo sano, non è per il moralismo del sano, è che il cibo che viene dalla natura è davvero più bello, più interessante. se vuoi andare avanti. Se altri però vogliono dire una cosa e intervenire è volentierissimo. Queste sono uova sode, il becco è fatto con un pezzettino di carota e quei due mi sembrano due semini, forse cumino, non lo so, sesamo, ecco. Ditemi voi, come vi sembra? Carina, io ho mio figlio di all'adoria. Ecco, quindi si può, allora una volta si diceva non si gioca col cibo. Io forse perché per l'educazione che ho ricevuto, perché abito in un paese, eccetera, eccetera, conservo l'idea che il cibo va rispettato, che il cibo non si butta e non si spreca e penso che sia un valore importante e sia un valore da recuperare proprio adesso che ci si preoccupa per gli sprechi e quindi questo rispetto sia da recuperare. È anche vero che si può giocare con rispetto e secondo me ecco, qua c'è una cosa semplicissima, no? Cosa ci vuole a fare un uovo soda mettere un pezzettino di carota, eccetera, e poi forse è anche più intelligente di quello che sembra perché l'uovo è esattamente quello, no? È una promessa di un pulcino che verrà. c'era qualcuno che voleva dire sì, che non verrava, ok, scusa. Avete c'era qualcuno che voleva dire qualcosa? Allora, questi sono dei formaggini che hanno questa questa specie di pelle di buccia eccetera fatta non so di paraffina credo sia che poi si toglie c'è il formaggino dentro. Cosa ne pensate? Vi sembra cibo per bambini? Perché ovviamente l'immagine è quella, no? La comunicazione è una cosa che puoi dare al tuo bambino. Dai, proprio perché ha in mano il microfono cosa ne pensi? No, non vi imbarazzate. vi spiego perché vedete che è molto simile agli occhietti fatti con i semini. Allora, premesso che per le mie capacità manuali non riuscirai mai a fare una cosa così, non saprei con che strumento, forse con un bisturi, no? È una roba difficilissima per me fare una cosa così. secondo me la comunicazione di questa cosa è ti do un giocattolo e scoprirai che lo puoi mangiare. Cioè, non è in primo piano l'idea è un cibo fatto in modo carino, è prevalente il senso del gioco, di nuovo l'oggetto commestibile, non il cibo. diverso forse sarebbe se avessimo preso delle fette di formaggio, le avessimo tagliate noi con delle formine circolari a fare, ecco, quello sarebbe un percorso diverso. Questo di nuovo è questa confusione fra cibo e giocattolo con l'idea che il bambino per farlo mangiare lo devi un po' fregare, no? Lo devi un po' che non è vero perché non è con l'inganno che fai mangiare un bambino. Vai pure avanti. Vabbè, questo non vi dico niente, parla da sé, la pasta sombrero è quella specie di cosa strana che io sinceramente se me lo vedessi nel piatto non è che mi faccia venire molto appetito. Apprezzo la manualità di chi l'ha fatto, io forse non ci riuscirei. Ecco, questo è un po' il discorso che facevamo ieri, abbiamo anticipato su quello che è considerato un cibo per bambini. Non sono cereali schifosi questi, poi ci sono quelli schifosi, questi sono al miele, sono una cosa... Tra l'altro è apprezzabile il fatto che siano dichiarate in alto quelle mattonelline azzurre che vedete in alto che si ha espressamente dichiarato il contenuto di grassi, di sale, di zucchero, eccetera. Non è obbligatorio credo ancora dichiararlo, quindi è apprezzabile le aziende che mettono tutte le schede nutrizionali, mettono tutte le informazioni. se vedete ci sono informazioni nutrizionali anche sotto con meno di 8 grammi di zucchero per porzione calcio vuol dire che è addizionato di calcio abbiamo fatto questo discorso ieri perché devo dare a mio figlio un anellino addizionato di calcio non posso dargli il latte lo yogurt il parmigiano reggiano fatti con cereali integrali eccetera eccetera un bambino che secondo me che fa colazione con questi anellini che cosa sta mangiando a modo di capire che cibo è da cosa viene gli stiamo dando un oggetto commestibile secondo il mio parere questa è diseducazione alimentare perché un bambino deve crescere sentendo che lui ha il diritto di capire cosa ha nel piatto è un nostro diritto quando mangiamo sapere cosa stiamo mettendo dentro qui si chiede di fatto al bambino di fidarsi incondizionatamente sentirà un sapore dolce aromi artificiali e queste cose qui e si farà sedurre forse da questo sapore e altra chiave per entrare facilmente in bocca a un bambino è la croccantezza andiamo pure avanti questo è il tipo di cosa di cui stavamo parlando prima tra l'altro io sono una fan di Angry Birds mi piacciono molto eccetera non vedo perché dobbiamo metterli su una torta possiamo comprare i pupazzetti Angry Birds e metterli intorno a una torta decente personalmente detesto la pasta di zucchero è un insulto alla cucina italiana al valore della cucina italiana è una cosa che maschera qualsiasi cosa e poi se io faccio una torta voglio una torta che sia visual è ovvio che non dedicherò tanta attenzione agli ingredienti a quello che c'è dentro perché non è lì il mio interesse il mio interesse è solo sull'immagine no? poi ovviamente come sempre è tanto di cappello che è capace di fare queste cose proprio come abilità manuali mi è capitato una volta e un gruppo di bambini una festa di compleanno che i genitori avessero portato una torta di questo tipo ed è stata una scena tragicomica perché non si riusciva a capire quali fossero le cose commestibili e quali no per cui i bambini non sapevano era una bambina che giocava a volley quindi era un campo di pallavolo ma la rete si può mangiare ma ecco avere nel piatto una cosa che non si riesce a capire che cosa è commestibile e cosa è no lo trovo veramente che siamo arrivati in fondo ecco questo è veramente toccare il fondo sempre parlando di rispetto del bambino io ho lavorato come animatrice per feste di compleanno e devo dire che tutte le torte nel bar dove lavoravo sono così ed è vero che ci sono oggetti di plastica tipo le wings c'è la torta con tutto il castello comunque colori super scintillanti e poi sopra ci sono proprio le bamboline di plastica che a me questa cosa mi sembrava strana e comunque la cosa che diceva lei che ho notato pure che i bambini quando mangiano comunque questa parte esterna la levano cioè come se fosse e tendono a mangiare quello che c'è dentro è considerata la confezione tu dici se qualcuno di voi lo trova veramente bello cioè sì sì devi parlare col microfono rispetto no ma tra l'altro sono molto belle poi rispettare anche tutto l'impegno che ci mettono le persone che le realizzano però effettivamente a quel punto della torta si spengono le si toglie tutta la parte di sopra e si mangia cioè sono tra l'altro soldi spesi inutilmente perché una torta così costa tantissimo cioè io l'altro giorno non lo so costa tantissimo una torta così forse costa 50 euro ed è piccolissima cioè l'altro giorno l'altro giorno la torta di cui vi parlavo era a due piani era una cosa enorme così cioè forse era 70-80 centimetri quindi uno deve fare il mutuo per comprare sì forse quella signora avrà speso forse 150 euro per una torta del genere fatta in casa magari da una signora non dal bar perché non si va al bar non vi dico quanto costa perché c'è molto lavoro in una cosa del genere senza dubbio però va di moda va di moda e tutti i bambini vogliono questa cosa i genitori ovviamente pensano di fare una cosa bellissima fare il regalo al bambino facendo una torta così non si sforzano più di tanto magari di fargli capire che forse una torta semplice fatta dalla mamma allora c'è anche la vabbè io sono un po' fissata no c'è la terza via allora il fatto che i bambini vogliano una cosa è un'informazione ok i bambini hanno chiesto questa cosa va bene resta il fatto che gli adulti siamo noi quindi la responsabilità è nostra anche di capire quanto è sentito davvero quel desiderio del bambino è un desiderio reale del mio bambino vuole davvero quella torta o quella è l'alternativa che conosce e quindi chiede quello a me capita di nei laboratori fare le torte con i bambini cosa vuol dire ovviamente non ci sono i tempi della cottura in un laboratorio allora usiamo delle basi di pan di spagna che a seconda delle scelte delle famiglie eccetera può essere quella che compri già fatta al supermercato eccetera eccetera può andare dal pasticcere e farti fare una buona base di pan di spagna dopodiché con i bambini noi ci occupiamo delle creme e delle decorazioni non so facciamo la panna montata facciamo delle creme al cacao facciamo delle cose che si possono fare a freddo la panna montata è una base bianca che uno può unire per esempio al cioccolato fuso e allora si fa una crema ganache oppure si può usare unire a si possono non so frullare dei frutti di bosco delle fragole dei lamponi con dello zucchero eccetera fare una crema rossa fare una crema colorata eccetera eccetera e poi con frutta o con altri o semplicemente ancora col cioccolato fuso fare delle decorazioni quindi è ovvio che la torta decorata dai bambini non sarà così ma vi assicuro che i bambini riescono a fare delle cose di una bellezza inaspettata proprio e inaspettata è la parola cioè i bambini arrivano a delle soluzioni creative eccetera che che veramente commuovono si sente la sensazione di incontrare l'arte proprio perché si incontra una cosa che viene dallo stomaco quindi questa cosa secondo me è diseducativa perché non è cibo perché c'è troppo zucchero e soprattutto perché il bambino è passivo non potrà mai fare una cosa così frustrante la torta possono farle i bambini spesa minima dieci volte più divertimento e più felicità e alla fine la sensazione di essere competenti e di essere capaci volevate dire altro su questo ok questo è un altro esempiaccio di cake design versione muffin possiamo andare avanti il visual food allora non so se avete mai visto ci sono anche dei filmati molto interessanti del bento allora le mamme giapponesi fanno ai loro bambini la confezione di cibo fatto in casa da portare all'asilo da portare a scuola e in alcuni ambienti c'è una competizione serratissima a chi prepara per i bambini la cosa più graziosa e fra i bambini c'è competizione per cui queste povere mamme si alzano chissà che ora la mattina per preparare delle cose ogni giorno per sorprendere i loro bambini con le cose più carine per cui il bambino apre la propria pasta eccetera e si deve trovare ogni volta un pupazzetto da mangiare poi gli ingredienti in sé sono riso verdure per l'amor del cielo sulla qualità non c'è che dire quello che io contesto è proprio l'idea che il cibo vero non fa per i bambini bisogna sempre aggiungere mettere qualcosa eccetera perché il cibo vero è cosa da grandi poi ecco questa è la Angry Birds versione venuta male no? versione eppure brutta questa ve l'ho messa solo per ehm ora sinceramente vi viene voglia di mettere in bocca questa cosa? ecco perché dovrebbe volerla un bambino non so se ce n'è ancora non ce n'è basta è finito ok va bene questo era giusto per darvi visivamente l'idea eh per riderci anche un po' su insieme di quello che mediamente interessa e piace ok quindi vi rendete conto anche voi come da qui la strada sia davvero lunga e nel momento in cui uno decide di fare attività e cucina per i bambini è inutile pensare anche di promuovere la propria attività dicendo noi facciamo non so attività laboratoriale cucina naturale eccetera perché la gente non ha la minima idea di cosa state proponendo e da questo punto di vista utilissima la documentazione fate tante foto ehm cercate di essere chiarissimi nei testi scegliete eh proprio non so un colore uno stile di comunicazione uno stile di immagine che davvero parla di voi e di quello che fate perché comunicare uno stile diverso a chi conosce o a chi è abituato a quel tipo di immagine è proprio difficile quindi bisogna comunicare a parole a immagini a sensazioni a emozioni a tantissime cose eh quando noi abbiamo creato il sito bambini in cucina eh siamo stati tanto a pensare quali colori usare per esempio eh la scelta di un colore o di un altro non so immaginate eh gli asili dove arrivate vedete tutte le paperelle è tutto rosso giallo verde eccetera eccetera o un asilo eh in chiave non so in chiave asili di reggio Emilia in chiave montessoriane eccetera dove i colori sono subito diversi no e quello parla immediatamente di uno stile educativo eh sono sono piccoli particolari che che sono estremamente importanti proprio perché parlano al cuore parlano allo stomaco e non solo alla mente quindi eh quando proponete delle attività è vero che voi le proponete per i bambini però di fatto chi decide è l'adulto e quindi è all'adulto che dovete dare uno stile di comunicazione eh volete fare una piccola pausa? possiamo possiamo fare una piccola pausa? eh cosa? spengo aspetta va bene eh sì ok allora siccome ho avevo davvero paura di annoiarvi e di parlare troppo no? abbiamo un po' ho puntato un po' più sulle immagini ehm vi faccio vedere questa presentazione che è anche sul sul sito bambini in cucina che spiega un pochino il il cuore di quello che noi vogliamo comunicare allora noi non siamo insegnanti non abbiamo una formazione da insegnanti eh lo scopo dei bambini in cucina è quello questo era esattamente quello che facciamo ieri lo scopo di bambini in cucina è di fare quello che la scuola non fa cioè quello che non non fa in senso di critica eh ma la scuola ha l'obbligo eh di legge di fare educazione alimentare però ehm diciamo che i genitori di oggi tendono un pochino a ehm a credere che la responsabilità dell'educazione alimentare sia la scuola quello che anche nella scuola migliore eh dove magari sono in campo progetti fantastici educazione alimentare eccetera eccetera ehm non può essere fatta tutta l'educazione alimentare che serve al bambino eh l'educazione alimentare va fatta a casa eh o va fatta in tutti gli altri ambiti quindi noi come nell'attività di ieri vogliamo dare occasioni di scoperta del cibo ai bambini fuori dalla scuola e soprattutto vogliamo coinvolgere i genitori io spero che qualcuno dei genitori che ieri era qui eccetera può magari aver pensato beh magari questa è una cosa che posso rifare a casa con mio figlio quindi l'obiettivo è questo allora questa è una piccola presentazione che vuole che parla di questo dell'educazione alimentare a casa poi voi non leggete solo a casa eh e lo leggiamo fuori dalla scuola allora acqua fuoco e ingredienti che vengono dalla natura in ogni casa c'è un laboratorio a costo zero avete visto ieri abbiamo consumato due pacchi di farina ce lo possiamo permettere tutti eh quindi eh al di là del fatto che si cerchino belle attività educative a fare con i bambini fuori bisogna ricordarsi che la cucina proprio per gli arredi per il fatto che è tutta piastrellata è un vero laboratorio che abbiamo tutti a disposizione anche solo lascia pure lì non imparare anche solo per un bambino non so lavare il lavandino no? stare un po' con l'acqua nel lavandino comunque si impara qualcosa è una bella esperienza vai pure avanti ok il cibo di casa è ricco di emozioni per questo è diverso dal cibo industriale allora noi adulti cosa possiamo fare per eh evitare che i nostri bambini non solo i nostri figli ma che i bambini diventino eh facili oggetti della seduzione dell'industria del cibo preconfezionato dobbiamo legare il cibo di casa delle emozioni è quello che lo renderà diverso al palato dei bambini quindi aver cucinato questi qui sono tre bambini che stanno boh mi viene in mente tipo quando uno fa la torta no? leccare quello che resta in fondo la ciotola sono le emozioni vedete io vi ho detto questa cosa e tutti avete sorriso con tenerezza no? c'è quel sentimento c'è quella sensazione ecco il cibo di casa deve essere esattamente questo deve essere legato a un'emozione a una tenerezza a un ricordo a un senso di condivisione e c'è tutta la componente affettiva e di relazione nel cibo di casa che fuori non c'è ed è questa su questa chiave eh che dobbiamo lavorare perché questa è l'arma che abbiamo in pugno quanti bambini conoscono le piante che mangiano allora abbiamo fatto tempo fa l'anno scorso mi pare un laboratorio dove fondamentalmente l'attività principale del laboratorio era pulire i piselli ovviamente non potevamo scrivere facciamo un laboratorio in cui si puliscono i piselli perché nessun genitore avrebbe portato i figli quindi ci siamo inventati un nome scemo tipo i sapori di primavera e queste cose qui poi di fatto i bambini hanno sbaccellato i piselli tutto il tempo ed erano contentissimi perché perché se voi fate vedere ai bambini il baccello chiuso dei piselli e chiedete ai bambini che cos'è non lo sa nessuno qualcuno dirà fagioli quindi siccome i piselli tra l'altro sono fra gli ortaggi che i bambini gradiscono di più pulire i piselli è un'attività che si può fare anche per terra mettendo solo giù un bel telo con bambini di un anno perché perché si rompe si apre si riesce a trovare la sorpresina dentro e se anche il pisello si mette in bocca che succederà mai quale gioco meraviglioso che un bambino può anche mettere in bocca cucinare insegna pensare si osserva si sperimenta e si scoprono nuovi punti di vista questa è una testa d'aglio tagliata nell'altro senso il discorso che facevamo prima col peperone sperimentare e osservare il nostro paese è un paese che ha tantissimo bisogno di un pensiero scientifico il pensiero scientifico nei bambini si stimola non facendo lezioni matematica ma invitando a osservare la realtà e tra l'altro imparare a osservare la realtà toccarla conoscerla eccetera è anche un modo per prevenire i pregiudizi sul cibo più un bambino conosce un alimento l'ha visto da tanti punti di vista ne ha scoperto gli odori le consistenze eccetera più è facile che quel cibo gli diventi amico e che quindi non sviluppi i pregiudizi tanti bambini dicono quando si propone loro una cosa nuova dicono non mi piace prima ancora di assaggiarlo e di vederlo è una giusta reazione di difesa verso qualcosa che non si conosce quindi un po' di testa scientifica in cucina ma vediamo com'è fatto vediamo se si smonta una testa d'aglio proprio si smonta anche quella è un'attività che si può fare con i bambini piccolissimi ancora nel seggiolone dargli una testa d'aglio da da separare tutti i pezzettini da separare allora sempre riguardo al pregiudizio che dicevamo la scoperta della varietà scardina il pregiudizio questo è un mazzo di cipolle grandi piccole di colori diversi è un sistema vogliamo dire un trucco molto efficace se il bambino dice non mi piace la cipolla quale cipolla non ti piace quella rossa o quella bianca non ti piace cruda non ti piace cotta a volte il pregiudizio nasce dal fatto che uno pensa per assoluti mentre scoprire che non esiste quella cosa ma esistono tante cose che un po' si assomigliano però sono tutte diverse fa venire curiosità e quindi già questa distanza questo muro del pregiudizio un pochino crolla le specie e le erbe aromatiche sono un punto di incontro tra il gusto la salute e la natura nei laboratori non portiamo le erbe aromatiche portiamo il vaso con la pianta e il bambino deve staccare da solo le foglie lavarle asciugarle se necessario e poi usarle perché quella è una pianta di timo se io metto lì le foglioline sono degli oggetti piccolini una specie di polverina di cosina che si usa no quella è una pianta viene dalla natura viene dalla terra non serve a niente dirlo bisogna scoprirlo se voi non aveste mai visto una piantina di basilico la fogliolina e basta di basilico potrebbe essere qualsiasi cosa nella vostra mente c'è la pianta quando la usate e quindi anche per il bambino deve esserci questo collegamento il bambino impara guardando e facendo questa qui è una foto che io amo particolarmente perché allora qua in primo piano sfocato vedete le maniche tengono una carota mentre il bambino sta imparando a pelare la carota cruda usando il pelapatate il piccolino guardate come sta osservando lo vedete che sta imparando quindi il passaggio dopo presumibilmente sarà che se io gli dico vuoi provare mi dirà di sì quindi prenderà confidenza con la carota prenderà confidenza con uno strumento la cucina si impara non ha parole meno parole si usano in un laboratorio più siamo sicuri che stiamo facendo un bel lavoro e il laboratorio sta funzionando bene quando dobbiamo parlare tanto vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando maschio o femmine non fa differenza la cucina piace a tutti ci chiamano persone vorremmo organizzare una festa abbiamo pensato alla cucina perché sa sono tutte bambine in realtà piace tantissimo a tutti non ho mai notato differenze fra maschi e femmine anche ieri avete visto bambini i bambini non c'erano differenze no? gli utensili manuali entusiasmano i bambini e li fanno sentire competenti una volta nelle nostre case a contatto con i bambini di utensili manuali ce ne erano tanti che loro potevano provare a usare li abbiamo fatti sparire tutti che cosa può usare un bambino in una casa la scopa e la paletta forse l'aspirapolvere che piace ai bambini piccoli e poi ci sono gli utensili da cucina gli utensili da cucina dati ai bambini sono tantissimi avete visto ieri con la sfogliatrice nessuno si è fatto male e tutti sono stati in grado di usarli ed era considerate la prima volta che la usavano quindi immaginate quale competenza possono acquisire dopo averla usata 4 o 5 volte si può cucinare dappertutto in pochi minuti cucinare è facile cerchiamo sempre di pensare semplice questo è una specie di spazio culturale diciamo un sepic alla milanese tavolo e via stavamo facendo dei panzerottini con le verdure e il formaggio quindi non vi preoccupate se non ci sono i fuochi non vi preoccupate se siete anche solo all'aperto l'importante è avere un piano di lavoro e poter garantire l'igiene avere un posto pulito e un piano di lavoro detto ciò si può fare tutto anche nel modo più semplice cioè un semplice laboratorio di piccole merende si può fare tantissimo anche all'aperto l'amore per il cibo semplice nasce dall'emozione del contatto con la natura di nuovo ve l'ho detto 40 volte non mi sopporterete più ma non serve a niente fare il moralismo bisogna sporcarsi le mani nella terra e capire che cos'è il cibo veramente ieri sera a questo proposito ma ce ne facevamo una piccola riflessione sull'esperienza della morte nel senso che i bambini che mangiano carne e pesce questo presuppone l'uccisione di un animale questa esperienza questa competenza una volta non era negata ai bambini i bambini sapevano avevano visto mille volte come si uccideva il maiale come si tirava il collo alla gallina o non so avevano il papà lo zio e il nonno che andavano a caccia a pesca eccetera l'esperienza della morte era un'esperienza vissuta con cui a poco a poco si facevano i conti raccontavo loro l'altra sera che io da piccola andavo in vacanza in un paesino sperduto della Sardegna eccetera e quando veniva ucciso il maiale venivano chiamati a raccolta tutti i bambini per andare ad assistere all'uccisione del maiale che è una cosa vi assicuro che un fin dell'orrore non riesce a guagliare la violenza di questa cosa però però i bambini lo vedevano fin da piccoli sicuramente erano impressionati ma non erano traumatizzati da questa esperienza perché era così diciamo indispensabile alla vita alla cultura nel tessuto della vita e questa drammaticità gli dava il senso del rispetto per il cibo e la natura e insegnava a loro a prendersi la responsabilità cioè se io mangio la carne la carne presuppone l'uccisione di un animale non la mangerò ogni secondo la mangerò ogni tanto così come si faceva una volta adesso vi ho fatto questo esempio che è molto forte quindi immaginiamo una cosa meno tremenda portare i bambini a pescare quindi se la scelta è quella della dieta vegetariana eccetera eccetera non lo facciamo però stiamo attenti perché se noi i bambini neghiamo questa informazione e guardate che informazione per i bambini vuol dire vedere e fare non vuol dire sapere con le parole basta prima o poi lo scopriranno e lo sapranno scopriranno che quel buonissimo ragù di lepre una volta era il leprotto carino quindi un po' di esperienza vera autentica di che cos'è davvero il cibo va fatta perché se no è ipocrisia e non pensiamo che se se i bambini non fanno queste esperienze li teniamo fuori dalla violenza anzi insegniamo che c'è violenza e violenza che la violenza è la violenza gratuita è la violenza verbale è la violenza di cui loro hanno esperienza magari è il bullismo in classe è la violenza gratuita è la violenza che si vede in televisione i nostri bambini hanno contatto con la violenza però nel cibo c'è una componente di violenza che è diversa e che magari farà sì che quando saranno ragazzi faranno delle scelte magari ci sarà chi diventa vegetariano chi vuole non so il cibo cruelty free dell'animale allevato con un minimo di rispetto come sempre di più si fa e ognuno farà le sue scelte volete dire qualcosa no vai pure avanti procurarsi cibo da sé dà il piacere di sentirsi abili l'esperienza fuori all'aria aperta di procurare qualcosa di cibo dà almeno l'esperienza che il cibo non viene solo dal negozio al supermercato dal frigorifero andare a raccogliere non so se voi vi è mai capitato di andare a raccogliere cibo selvatico eccetera eccetera non ne avete un bel ricordo è una bella cosa è una cosa che ai bambini piace da anche solo andare a raccogliere le more per dire andare col proprio cestino sentire che la natura ha qualcosa da offrire e tra l'altro è bello farlo con i bambini e insegnare anche la moderazione allora le more sono qui sulla pianta però non le prendiamo tutte ne lasceremo un po' per gli uccellini quindi si prende un po' quello che davvero siamo sicuri di consumare andiamo a castagne è inutile venire a casa con 10 kg di castagne che faranno i vermi quindi insegna anche a non arraffare a prendere quello che davvero uno pensa di consumare e basta nel rispetto della natura che è degli altri è anche mia ed è qualcosa che condividiamo e attraverso questo tipo di esperienze si insegna anche il senso della condivisione che è un pezzettino mio e basta non è mai troppo presto per cominciare questa foto è fatta tanti anni fa mio figlio che è quello a destra oggi è un dodicenne rapper non abbiamo mai avuto paura che fosse troppo presto perché nella cucina c'è qualcosa adatta a ogni età fin dal seggiolone per dire una delle prime attività che facevamo per esempio era la colazione allora mettevamo sul seggiolone lo yogurt bianco non dolcificato non niente yogurt bianco e poi un giorno c'era lì i pezzettini di musli i pezzettini di frutto oppure c'era il miele oppure c'era la marmellata e lui si componeva il suo yogurt con i pezzettini quello che voleva allora prima di tutto si scopre che lo yogurt non nasce aromatizzato eccetera che lo yogurt è una cosa bianca quello è lo yogurt e poi immaginate di mettere un cucchiaino di marmellata di mirtilli per dire che è viola mettere il cucchiaino nel bianco e cominciare a girare e vedere tutte queste scie di colore che si formano quello di per sé è una bellissima esperienza e abbiamo fatto lo yogurt alla frutta senza bisogno di comprarlo già fatto con aromi artificiali addensanti e robe strane quindi abbiamo dato ai bambini un'esperienza molto più interessante e poi è anche vero che tanti rifiuti a tavola dei bambini tante tensioni vengono dal fatto di avere un ruolo estremamente passivo il bambino sta lì non gli diamo il cibo e lui lo subisce quindi piccole cose che si possono fare a tavola servono a dare al bambino maggiore autonomia farlo sentire padrone protagonista del suo pasto e non solo passivo quindi certe resistenze certi fra virgolette capricci a tavola si risolvono banalmente dando al bambino maggiore uno spazio di autonomia ragionato quindi non è mai troppo presto perché i bambini non sanno nulla del mondo per loro tutto è nuovo e tutto è interessante questo è un cucciolino che sta giocando con gli spaghetti sì è vero li sta rovesciando ma non è la fine del mondo ecco con dei fili di spaghetti cotti ma quante cose no? può fare un bambino così piccolo scoprire e le consistenze e l'odore e il sapore come questi fili cambiano forma di come uno lo mette poi appiccica e poi ce ne possiamo inventare no? di attività per un bambino e quando si dice cosa gli faccio fare ecco mettere lì dieci spaghetti cotti a un bambino vuol dire sapere che lui per mezz'ora almeno avrà davvero da fare in sintesi sono finite le immagini fare educazione alimentare a casa significa permettere ai bambini di stare insieme a noi e di condividere quindi non stai fuori dalla cucina ti parcheggio davanti al televisore perché devo cucinare è pericoloso ma io cucino tu magari il bambino nel seggiorone ti do lì dieci spaghetti cotti che magari avevo cotto prima dall'ultima pasta che ho fatto le avevo lasciate da parte però siamo insieme tu fai una cosa io ne faccio un'altra e anche solo mentre tu fai la tua cosa mi vedi vedi i miei gesti vedi come mi muovo no? conoscere e appropriarsi della cultura familiare ognuno di noi mangia e cucina in modo diverso stiamo è un passaggio di testimone il bambino che sta con noi in cucina accoglie questo testimone della sua cultura che passerà alla generazione dopo ne parlavamo ieri a tavola ci capita che ci siano delle persone che ci chiedono di fare i laboratori non so a scuola o in altri spazi e persone le quali lo proponiamo che proprio non ne vogliono sapere quando troviamo persone sensibili interessate a quello che noi proponiamo ogni ogni volta arriva il momento che ci dicano non lo sai che anch'io però da bambino con mia mamma con mia nonna è una catena è una catena che passa di generazione in generazione chi oggi ama questa cosa ha un ricordo almeno un ricordo di questa cosa che gli ha lasciato un semino di emozione dentro per questo va fatto con i bambini perché se no spezziamo la catena imparare a prendersi cura della propria salute e dell'ambiente va bene è un discorso che abbiamo già fatto più volte ma su questo insisto per come è strutturato il mondo del cibo per come è strutturato il mercato eccetera io penso che noi adulti abbiamo la responsabilità e il dovere di aiutare i nostri bambini a diventare adulti consapevoli capaci di fare delle scelte di analizzare fare delle scelte di saper valutare di saper giudicare e di prendersi cura della propria salute quindi anche in vista del fatto che quelli che sono i bambini di oggi sono gli adolescenti di domani stare in cucina insieme gli insegniamo proprio a pensare a capire che cosa hanno a valutare le differenze e quindi a saper scegliere a saper dire di no perché anche quello è importante a superare i pregiudizi ne abbiamo già parlato a divertirsi e scoprire il cibo con le mani la mente e il cuore allora su questa cosa di divertirsi mi sento di insistere sia perché è un'attività davvero divertente sia perché una cosa che secondo me manca molto nella relazione fra adulti e bambini è il fatto di divertirsi davvero insieme di un'autentica condivisione dove stiamo bene entrambi e ci piace quello che stiamo facendo insieme allora chi era ieri che aveva cucinato con Noemi non c'è oggi? no ecco loro due ieri hanno condiviso cioè il grande e il piccolo si sono divertiti insieme non so se avete notato ma si sono davvero divertite tutte e due per questa bimba per Noemi è stata davvero una bella esperienza secondo me no? perché non è l'adulto che l'ha accompagnato a divertirsi no? c'erano due livelli diversi che riuscivano a divertirsi insieme e davvero non so quante siano le attività e non sono proprio tante in cui ci possiamo divertire con i bambini ma divertirci davvero mantenendo i nostri interessi la nostra modalità adulta e tutto quanto e il bambino libero di mantenere il proprio modo di essere le mani la mente il cuore sono le tre cose che mettiamo in campo nella cucina con i bambini tutta la manualità il pensiero il ragionamento le conoscenze eccetera e la relazione il sentimento sentirsi parte dei cicli naturali ora immaginate di essere un bambino e uno vi dice che devi mangiare il cibo di stagione a me viene da ridere perché che cosa caspita ne sa un bambino di che cos'è il cibo di stagione no? cioè ma l'ha mai visto una pesca sull'albero? no quindi bisogna cominciare da prima quindi non sul moralismo del cibo di stagione per in tutto scopriamo cosa sono le stagioni che vuol dire andare fuori andare all'aperto in tutte le stagioni giochiamo fuori in inverno che sarà mai ci attrezziamo e andiamo fuori in tutte le stagioni e poi come ripeto la raccolta del cibo selvato e con l'attività all'aperto eccetera eccetera e il rispetto fa sentire noi parte di quel ciclo così come ci mettiamo il cappotto d'inverno allo stesso tempo quella stagione fa parte di un ciclo naturale se io mi nutro di quello che mi dà la natura in quella stagione anch'io sono un pezzo di natura anch'io sono fatto di natura quindi la natura non è altro da me è un pezzo della mia identità e di quello che sono ho visto una volta una allora voi siete tutti più giovani di me non so quanti ricordano Diane Fossi era quella non so se qualcuno ha visto il film Gorilla nella nebbia no Diane Fossi era quell'antropologa che per prima era andato sui monti Virunga in Africa eccetera studiare i Gorilla ed è la scienziata eccetera che fu uccisa dai bracconieri per questo quindi immaginate una donna da sola in mezzo alle montagne le foreste dell'Africa in mezzo ai Gorilla e passò tutta la sua vita a cercare di difendere questi animali che erano già tanti anni fa in pericolo di estinzione in questa bellissima intervista in questo davvero modello femminile straordinario lei disse è inutile parlare di amore per la natura di dire che bisogna amare la natura perché prima di amare qualcosa per poter amare qualcosa bisogna prima conoscerla quindi se non dobbiamo pretendere che i nostri bambini conoscano cioè amino la natura adesso sono bambini dobbiamo fargliela conoscere da questa conoscenza da questa esperienza poi magari in alcuni di loro nascerà l'amore e la voglia di proteggere imparare a scegliere diventare consumatore consapevole l'abbiamo già detto c'è ancora forse una pagina ok quindi cosa non funziona con i bambini quello che possiamo subito evitare di farlo perché tanto non ci porta da nessuna parte sono un po' la somma degli errori che ognuno di noi ha fatto come genitore come educatore non funziona fare i gendarmi quello si fa quello che non si fa non so a tavola stai composto stai dritto controllare non gli insegniamo niente a controllare non funziona dire mangia che ti fa bene quello è sano adesso noi abbiamo parlato di cibo sano però è una parola che vale la pena proprio abolire totalmente quando si comunica con i bambini perché perché non dobbiamo fare l'errore di trasmettere loro l'idea che il cibo sia come un farmaco cioè il cibo che fa bene il cibo che fa male il cibo non è un farmaco noi dobbiamo mangiare sano con un bambino perché quello è cibo che viene dalla natura per tutti i discorsi che abbiamo fatto non inneschiamo il concetto del cibo sano perché è controproducente perché allora se il cibo è un farmaco quando sarò più grande potrò assumere questo rapporto di diffidenza verso il cibo che mi farà magari fare la scelta se sono una ragazza di una dieta estrema per esempio o l'illusione di potermi a me sinceramente preoccupa soprattutto l'uso improprio del cibo per le diete senza gli strumenti diciamo culturali intellettuali per non farsi del male non funziona riempire il piatto il bambino mangia poco gliene metto tanto e gli dico che deve mangiare tutto perché poi magari gli do il premio ecco peggio ancora di nuovo ricordiamo che per un bambino il cibo può essere visto come un elemento ostile particolarmente ostile perché gli stiamo chiedendo di metterlo dentro quindi insegniamo invece al bambino a conoscere le sue sensazioni a capire il senso di fame e il senso di sazietà a conoscere il proprio corpo e quello di cui il suo corpo ha bisogno quindi se un bambino ha poco appetito come abbiamo detto ieri si può magari anticipare l'orario della merenda e usare piccoli stratagemi ma se un bambino non vuole tanto cibo ne mettiamo poco ed è lì nel piatto se vuole il bis se ne vuole ancora cominciamo a piccoli passi in questo modo il cibo non sarà visto come ostile come abbiamo detto prima non funziona fermarsi al nonno mi piace non lo voglio quindi ragioniamo con un atteggiamento più scientifico il no è il punto di partenza di un pensiero non è il punto di arrivo non ti piace appunto la carota ma quando non ti piace quando è cruda o quando è cotta non ti piace nel sugo non ti piace così ma l'hai mai provata bastoncini croccante mai sentito l'odore eccetera è l'inizio di un pensiero e di un ragionamento che facciamo col bambino il bambino ci dà questa informazione da questa dalla sua informazione partiamo per pensare insieme perché perché il bambino deve imparare a pensare non è ancora capace di vedere tutti gli aspetti quindi gli stiamo insegnando a ragionare e in questo modo si riduce il livello di conflittualità ma come ma la mamma te l'ha fatto con tanto affetto e tu adesso non me lo mangi ecco e veniamo al punto successivo colpevolizzare chi mangia troppo chi mangia troppo poco non è una colpa non è davvero una colpa anche un bambino che mangia in un modo che ci dà sui nervi sta dicendo qualcosa perché il cibo è un linguaggio attraverso il quale il bambino comunica il bambino che non ha le parole per dirlo citando l'adulto che non so se avete letto tante volte ha bisogno di usare gli strumenti della vita quotidiana per comunicare con noi non funziona fargli spot pubblicitari buonissimo che ecco tutte queste cose qua veramente i bambini non sono dei deficienti quindi non facciamo gli spot pubblicitari al cibo che proponiamo non bisogna avere paura non bisogna avere troppa paura bisogna essere consapevoli informati ma non bisogna avere troppo paura di allergie e intolleranze è vero le allergie ci sono e alcune allergie sono pericolosissime ci sono le intolleranze sono in aumento e tutto questo però è anche dimostrato per esempio che lo stile di svezzamento che è stato promosso adottato in questi ultimi anni quindi di cominciare con pochi ortaggi e di rimandare molto l'introduzione di alcuni alimenti allergizzanti di fatto aumenta le allergie perché alcuni alimenti vanno invece introdotti prima e in questo modo il corpo sviluppa un adattamento la capacità di tollerare eccetera quindi sono per esempio nel campo della ristorazione scolastica sono in aumento le richieste di diete speciali sia quelle di bambini effettivamente allergici effettivamente con dei problemi sia quelle le diete speciali che vengono richieste perché i genitori hanno paura che il bambino possa essere allergico nell'asilo che avete visto in quel filmato prima per esempio noi abbiamo cominciato a fare i laboratori con le fragole all'inizio i genitori terrorizzati perché le fragole sono allergizzanti ma chi l'ha detto nel senso che è vero che ci sono bambini che hanno delle reazioni allergiche cominciamo con poco poco e vediamo come risponde non posso dargli aspettare che si sposi per dargli le fragole ecco non funziona mangiare lontano dalla tavola dei pasti sembro una vecchia bacucca ma si mangia a tavola si mangia a tavola perché il bambino ha diritto all'esperienza della fame di avere fame andare a tavola e mangiare se si tiene la fame mezz'ora non morirà di fame quindi chi di voi ha avuto un'infanzia scapestrata si ricorda le corse i giochi eccetera e arrivare a tavola affamati come degli squali ok è un'esperienza bella dell'infanzia tra l'altro il cibo la qualità del cibo che si mangia fuori dalla tavola è inferiore alla qualità del cibo che si mangia a tavola mediamente quindi non si mangia a tavola una bella ricca colazione abbondante i pasti la merenda non è indispensabile chi ha fame i bambini che hanno fame hanno diritto a una buona merenda chi non ha fame la farà prima non la farà per niente non è al fine del mondo però si mangia a tavola altra cosa che proprio non funziona è preparare sempre le stesse cose quindi ma a lui piace quello cosa stiamo noi abbiamo il dovere come dicevamo ieri di allargare il ventaglio alimentare dei bambini se noi facciamo sempre le stesse cose primo la nostra tavola è una noia mortale secondo cosa stiamo facendo stiamo dando al bambino il comando stiamo abdicando a quello che lui chiede a quello che lui vuole e rinuncia e privandolo dell'esperienza di tutto quello che lui non sa e non conosce il cibo è scoperta vi dico per esperienza ora parlo di mio figlio perché è un bambino normale con i suoi capricci con i suoi limiti con i suoi pregiudizi eccetera eccetera però quando non so ci capita di andare in vacanza di andare in giro lui ha già capito che deve chiedere ma qui cosa fanno di buono da mangiare come dire qual è il prodotto tipico quali sono le cose tipiche e non andrà cioè se viene al mare in Puglia non chiederà lo spec ecco questo l'ha già capito e su questo una cosa su cui noi adesso lavoriamo è quello di insistere con i ristoranti che abbiano tutti un menù bambino curato e non hamburger e patatine nel menù bambino perché veramente offende l'idea del bambino dicendogli per te c'è solo l'omologazione perché tu non sei in grado di provare cose nuove quindi insistiamo se ne abbiamo l'opportunità di proporre una ristorazione per i bambini anche pubblica dove ci sia l'esperienza del gusto poi è vero che i bambini difficilmente ordinano una cosa che non conoscono insistiamo che ci diano un piattino così con dei piccoli assaggi per provare perché davvero i nostri bambini hanno diritto a essere trattati davvero con più intelligenza credo che sia finito no quello che funziona mancava il lato positivo invece come diciamo prima non aver paura di cambiare non siamo contenti di quello che abbiamo proposto fino adesso non siamo contenti pensiamo magari sbaglieremo proviamo a cambiare scardiniamo l'abitudine poi magari anche la nuova cosa che faremo non funziona non fa niente proviamo nessuno di noi nessuno ha ancora scoperto che cosa davvero funziona nel campo dell'educazione alimentare la verità vera è che non lo sappiamo sperimentiamo noi cioè questi sono gli anni in cui dobbiamo sperimentare proviamo e cambiamo non funziona la quotidianità i gesti ripetuti il modello familiare i riti della tav cioè funziona la quotidianità fare le cose sempre i bambini ieri hanno fatto la pasta la rifaranno la rifaranno e diventerà con suetudine esperienza fatta loro non l'esperienza occasionale dimenticata ma quello che si fa e si conosce bene sottolineo fare la spesa insieme non so se conoscete Michael Pollan guru dell'alimentazione nuovi approcci eccetera lui dice una cosa carina quando andiamo a fare la spesa con i bambini immaginate un supermercato se fate caso di solito per come è pensata strutturata l'esposizione del cibo in un supermercato il cibo fresco è ai confini cioè si entra di solito c'è la frutta e la verdura poi anche i banchi delle cose fresche che sia il pesce i banchi salumeria eccetera sono sempre sui confini nelle pareti mentre il cibo conservato le scatole sono nelle corsie centrali quindi la spesa con i bambini si fa lungo i muri quindi sulle pareti esterne privilegiando tutto il fresco la parte più divertente con i bambini è comprare la frutta e la verdura prendila tu scegliamo insieme impariamo a riconoscere la qualità no quella melanzana guarda un po' molle non la prendiamo prendiamo quella e così via piano piano facciamo di loro dei consumatori consapevoli non so ci sono i pomodori sentiamo se sono profumati no quindi è lì che si gioca perché se no se quello lo facciamo di corsa poi arriviamo alla cassa e alla cassa ci sono tutte le porcherie ad altezza bambino tutte le caramelline tutte le robe e il bambino che è stato passivo fino a quel punto dirà me lo compri ma se si è divertito prima nella parte del fresco sarà già soddisfatto sui sensi non vi stress oltre perché abbiamo già detto tanto i profumi le consistenze i sapori la possibilità di imparare osservando le gitele nella natura funziona il clima sereno l'abbiamo detto ieri quando facciamo attività di cucina con i bambini o semplicemente quando mangiamo con loro se abbiamo preparato con cura il piatto se abbiamo magari curato la tavola apparecchiata con un minimo di gusto di ordine eccetera abbiamo messo la stessa cura nella creazione di un clima gradevole sereno è fondamentale quindi per quante tensioni ci possano essere ci siamo arrabbiati abbiamo fretta qualsiasi problema a tavola si alza bandiera bianca qualsiasi tensione abbiamo litigato col marito può essere rimandata di 15 minuti a tavola si sta sereni perché prima di tutto perché le tensioni chiudono lo stomaco oppure lo aprono troppo cioè si mangia per ansia eccetera ma poi i bambini di oggi saranno gli adolescenti di domani se loro sanno che la tavola è un momento di quiete serenità in cui si sta assieme avranno sempre piacere di sedersi a tavola con noi se no poi arriva l'età delle porte sbattute e delle porte chiuse non possiamo accogliere un bambino a tavola e dirgli come è andata a scuola come è andata a scuola glielo chiediamo dopo aver mangiato parliamo di qualcosa di bello e poi a tavola c'è il cibo ma è quello l'argomento interessante ma lo sai che questo qua me lo preparava la nonna così eccetera ma sai questo qui è una cosa che abbiamo mangiato ti ricordi in vacanza sì e dove andiamo in vacanza l'anno prossimo eccetera il cibo è di per sé un argomento di conversazione che può dare infiniti spunti interessanti qualche volta se abbiamo tempo possiamo anche documentarci ieri sera guardavo su internet una sequenza bellissima di pochi minuti tratti da Geo a Geo dove era andato Dario Bressanini non so se lo conoscete lui è un giornalista lui è un professore di chimica all'università ed è un giornalista che ha un sito molto carino che si chiama Scienza in Cucina e tra l'altro se volete delle attività da fare con i bambini lì ci sono degli spunti davvero carini e faceva degli esperimenti estremamente divertenti sul colore del cibo faceva vedere per esempio una cosa che noi ogni tanto con i bambini facciamo il cavolo rosso sapete qual è quello di Krauti praticamente tagliato a fettine sottili messo nell'acqua senza cottura senza niente rilascia colore e l'acqua è blu poi a seconda che si mette dentro una sostanza acido basica il che significa del succo di limone un po' di bicarbonato cambia colore e diventa rosso viola ecco queste sono tutte esperienze con i bambini che si possono fare quindi se abbiamo fatto non so anche un semplice purè aggiungendo del colore naturale e poi fargli cambiare colore insomma il cibo è un argomento di conversazione interessante perché offre tanti spunti si può parlare del cibo in sé del posto dove viene dei ricordi di tante cose da lì si può partire in questo modo il cibo non è un effetto collaterale dello stare a tavola ma in quel momento c'è quello e lui il protagonista cucinare e coltivare poi di questo potrei parlare per tre ore usare gli utensili quindi dopo vedremo quali sono un attimo gli utensili utili come si fa allora l'abbiamo visto un pochino ieri scegliamo una preparazione semplice sicuramente gradita e non pericolosa la prima volta che si cucina con i bambini ovviamente non si va a proporre un cibo che loro non conoscono facciamo la pizza per esempio che piace a tutti non abbiamo tempo non abbiamo voglia possiamo anche comprare la pasta della pizza già fatta dal panettiere e la prima volta provare anche solo a stenderla nella teglia e allora lì si usano le mani le dite eccetera la mozzarella non vogliamo tagliarla con il coltello proviamo a tagliare i pezzi con le forbici i pezzettini in pomodoro che profumi mettiamo un po' di basilico un po' di origano vuoi l'acciuga vuoi l'oliva vediamo insieme quindi partendo dalla cosa più semplice che il bambino già gradisce si può cominciare a introdurre il discorso della cucina organizziamo un piano di lavoro ordinato avete visto ieri per esempio abbiamo preparato il laboratorio gli utensili che avremmo dato dopo le rotelle tagliapasta non le abbiamo messe lì sul tavolo perché meno cose ci sono più è tutto chiaro e semplice quindi predisponiamo ingredienti e attrezzature in modo da avere tutto a portata di mano se i bambini non hanno voglia di cucinare non costringiamoli possiamo dire magari dai prova a vedere se è una cosa che ti piace tutto in modo sicuro stimoliamo i bambini a usare tutti i sensi è una ripetizione di quello che abbiamo detto ieri lavoriamo con calma e lasciamo ai bambini il tempo di giocare un po' con gli ingredienti avete visto ieri in fondo il laboratorio è durato un'ora ora se noi ci pensiamo impastare un po' d'acqua e farina e mettere una sfogliatrice noi potremmo farlo in meno di 5 minuti però sarete d'accordo che quel tempo è servito i bambini ci hanno messo il tempo che a loro serviva per fare questa esperienza poi magari fatta a caso un'altra volta ci mettono di meno perché sono diventati competenti o magari ci mettono di più perché proprio ci si divertono diamo ai bambini il tempo e la possibilità di scoprire i propri errori e di correggerli ieri ci sono stati degli errori anche noi adulti possiamo sbagliare io per esempio ho sbagliato lo spessore della pasta gliel'ho rimessa dentro e vabbè ho sbagliato che bello che in cucina si può sbagliare usiamo più gesti e meno parole ve l'ho già detto spieghiamo sempre il motivo per cui modifichiamo o correggiamo il loro lavoro allora avete visto alla fine i bambini avevano messo tutte le loro tagliatelle in fila avevano disposto l'esercito tutti i soldati in fila e noi gliele abbiamo messi in disordine perché senza mettere la farina in mezzo fra gli strati eccetera arrivati a casa sarebbe stato tutto appiccicato e avrebbero dovuto magari buttare via quindi abbiamo modificato il loro lavoro ma perché questo era indispensabile alla riuscita del piatto gustiamo e commentiamo insieme i piatti che abbiamo preparato ieri ovviamente non abbiamo gustato insieme però per ogni bambino c'è stato il momento in cui abbiamo commentato insieme i bambini non hanno bisogno di sentirsi dire che bravo che bravo fondamentalmente hanno bisogno di sentirsi dire io ti vedo quindi essere visto il bambino che scende dallo scivolo e dice guarda mamma non vuole che la mamma gli dica si bravo ha bisogno della mamma che gli dica si amore ti guardo ti vedo questo gli permette la sensazione di essere visto lo aiuta a costruire la sua identità quindi e ha bisogno a volte di un rimando onesto non è che ogni volta che il bambino fa una riga su un foglio dobbiamo esaltarci neanche avessimo il nuovo Van Gogh in mano si amore ti vedo hai fatto una riga l'hai fatta blu gli do il rimando di quello che vedo e i bambini tante volte hanno bisogno di uno specchio nel genitore ti dico quello che vedo già questo gli serve tantissimo a capire che cosa sta facendo in un libro bellissimo che vi consiglio se volete fare laboratorio occuparvi laboratori allora questo libro si chiama il gioco di alfa e beta poi dopo magari vi darò una bibliografia così di riferimento se volete il libro è di Beba Restelli allieva di Munari vi ripeto allora ci sono due libri che mi piacciono molto di questa autrice che si chiama Beba Restelli Beba Restelli è stata allieva di Munari Munari sapete tutti chi è questi due libri che io ho pubblicato diverse cose questi sono due libri che io amo molto uno si chiama giocare contatto ed è la descrizione della sua esperienza e quello che ha imparato con Bruno Munari e che cos'è un laboratorio come col metodo cos'è un laboratorio Munari col metodo Munari e ci sono tantissimi esempi di attività che vi possono offrire anche tantissimi spunti interessanti e divertenti anche sul cibo l'altro libro un po' più per addetti ai lavori quindi direi anche più interessante perché proprio più profondo si chiama il gioco di alfa e beta ed è una una sorgente preziosissima di idee di spunti di laboratori sulla comunicazione sul linguaggio per bambini in questo libro c'è una citazione di un paleontropologo credo che è quello che gestisce un centro non voglio dirvi le cose sbagliate in valle Camonica c'è un posto molto bello dove ci sono i graffiti dei Camuni e c'è questa ricostruzione di un insediamento preistorico e questa questa persona spiega che tante volte noi facciamo un parallelo fra il lavoro del bambino il lavoro artistico del bambino la grafica la manualità e quello dell'uomo preistorico come cosa essenziale semplice non so se avete immagini in mente non so certi disegni dei Camuni che possono essere la spirale la famosa rosa Camuna oppure non so anche dell'arte aborigena le impronte delle mani e queste cose qua e lui spiega una cosa molto bella dice sono due cose diversissime l'arte del bambino e l'arte dell'uomo preistorico perché perché l'uomo preistorico pensa progetta e poi fa il bambino fa disegna e poi dice che cos'è cioè il bambino fa il disegno e poi dice non so è una casa lui prima lo fa e poi magari una forma strana e poi pensa che cos'è a che cosa fa quindi è inverso va bene detto ciò tutto quello che noi faremo col cibo fuori dalla scuola presuppone l'idea di un'alleanza con la scuola perché è inutile contrapporsi la scuola dovrebbe fare molto di più dobbiamo essere uno stimolo affinché la scuola faccia di più magari qualche mamma che ha visto un laboratorio come quello che avete visto ieri va a parlare con la maestra e dice ma lo sa che abbiamo visto questo laboratorio così eccetera e magari come dire su cento colpi sparati su cento genitori che raccontano agli insegnanti eccetera prima o poi si incontra un insegnante sensibile che va a vedere che cos'è e fa magari posso farlo anch'io in classe quindi essere sempre offrire regalare stimoli generosamente ok ne servono tantissimi continui dappertutto affinché le cose cambiano ma poi le cose cambiano e su questo io sono estremamente ottimista cosa possiamo chiedere alla scuola alla scuola possiamo chiedere invece quello che noi non siamo in grado di dare tante volte allora su questo rifletteremo ancora la multidisciplinarietà come abbiamo detto non il progetto di educazione alimentare l'ora di educazione alimentare dobbiamo chiedere che la scuola faccia entrare il cibo dappertutto allora non mi basta la lezione di matematica dove la mamma compra 10 caramelle quello non è parlare di cibo anche nel problemino magari al posto delle caramelle da dividere ma perché non possono essere fragole da dividere ciliegie da dividere ok nelle lezioni di scienze nelle lezioni di storia quindi tutta la civiltà del mediterraneo nasce sulla coltivazione del grano dell'olivo e della vite quindi il cibo entra nella nostra vita il cibo è la base della nostra storia quante guerre quante rivoluzioni si sono fatte per il cibo per la terra per le risorse economiche no perché non si può parlare di cibo in storia in geografia in tutte le materie e quanti lavori divertenti si possono fare in grammatica in italiano usando le parole del cibo perché i bambini sentano che il cibo è una cosa loro che gli appartiene che è dappertutto la scuola può dare la convivialità adesso questo è più vero forse nelle scuole dove si fa tempo pieno perché tutti i bambini mangiano in mensa è il momento del pasto come dicevamo ieri è un momento critico difficile dove ci sono tanti bambini che non mangiano tanti bambini che mangiano male tanti insegnanti che considerano il momento del pasto come un momento di pausa e non come un momento didattico mentre il pasto è momento didattico a tutti gli effetti non perché uno deve far lezione durante il pasto ma perché la convivialità va curata uno mangia così uno mangia cosa valorizzare le differenze e così via il confronto tra pari quindi quello è una cosa che davvero può dare solo chi organizza gruppi perché noi nel privato abbiamo il rapporto adulto-bambino mentre per esempio ieri c'era abbastanza la possibilità del confronto tra pari avete visto che i bambini lo tollerano benissimo il cibo come cultura non ve lo dico più perché ve l'ho detto tanto il valore delle differenze quindi non l'omologazione non bisogna mangiare così devi fare così quella è la porzione giusta quella è ma valorizzare le culture diverse le differenze i sapori diversi il prodotto tipico e i gusti diversi di ognuno di noi nel cibo siamo tutti diversi ogni alimento noi lo percepiamo in bocca in modo diverso attraverso il cibo noi possiamo insegnare il valore delle differenze si possono fare un sacco di esperimenti carini proprio a conclusione vi dico questa è un'immagine molto carina che gira in internet come spiegare ai bambini che se abbiamo la pelle bianca o se abbiamo la pelle nera dentro siamo tutti uguali prendete le uova ci sono uova col guscio bianco e uova col guscio scuro quindi portiamo in classe nel gruppo due uova una chiara una scura rompiamo le uova col bambino mettiamo le due uova rotte in un unico piatto e facciamo vedere che dentro siamo tutti uguali quindi quanto abbiamo speso per due uova pochissimo ok le possiamo anche cucinare non è che le dobbiamo buttare via ecco il cibo ci offre infiniti spunti per rendere visivo un pensiero e un concetto che altrimenti resta un pochino astratto ok basta finito vi faccio fare una piccola pausa ancora grazie a tutti